Ciao bambini, oggi siamo insieme ad un baby panda, è proprio un cucciolino piccolino piccolino, ma che cosa gli stanno facendo il sollettico? E facciamo il sollettico sotto una zampina e poi sulle manine, ma che buffo, cosa fa si mette a ballare? E adesso un po' di sollettico nelle orecchie, guardate come si muovono, e anche nell'altro! Sei proprio buffo e carino carino carino, si tutto prendere a bacini! Oh è il momento di mangiare, manca qualcosa, il bavaglino, eh sì se no si sporca tutto con la pappa, ha proprio l'acquolino alla bocca! Vediamo un po' che cosa possiamo dargli da mangiare, una bella zuppetta di verdure, mi sembra perfetta per iniziare il pasto! E lui sembra gradirla, ecco un altro boccone e abbiamo quasi finito! Oh e si è sporcato tutto il musetto, dobbiamo pulirlo! Ecco qua con questa salviettina li puliamo bene 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 il faccino, perfetto! E adesso hai ancora fame? Vediamo un po' che cosa offre il menù! Mmm un limone? No eh? Spaghetti, ottima idea! Un bel piatto di spaghetti e come li mangia? Ma è insaziabile questo piccolo panda! Ancora spaghetti e abbiamo finito anche questa ciotola di mangiare! E adesso? Dobbiamo mangiare un po' di frutta? Che ne dici di un bel limone aspro aspro aspro? Mmm eh no non gli piace proprio! Oh no! E comunque ritenta! Eh no non gli piace il limone è troppo aspro! Pizzica la lingua! Smetti la pandino! Non mangiarlo! Avanti! Adesso ti prepariamo qualcos'altro! Un bel biberon con il latte! Come piace a te! Mettiamo l'acqua e poi mettiamo il latte in polvere! Un bel misurino di latte in polvere! E poi ne mettiamo anche un altro! Ecco qua! Chiudiamo il biberon e sbattiamolo bene! Dobbiamo proprio shakerarlo! Sbattiamo, sbattiamo! Eh abbi pazienza! Stiamo arrivando! Che cosa c'è? Non vuoi il biberon con il latte? Ah forse perché non è stato sbattuto bene! Ecco adesso sì! Così la polverina di latte si mescola bene con l'acqua! Ma pandino stai facendo un po' troppi capricci! Eh l'hai sempre bevuto il latte! Adesso qual è il problema? Eppure ti vedo che hai ancora l'acquolina in bocca! Dai lo sbattiamo un altro po'! Adesso va bene! Oh incontentabili questi cuccioli! Ed ecco qua che in un batter d'occhio ha finito anche questo biberon! Adesso dovresti essere sazio! Eh sì! Ah meno male! Meno male! E adesso che cosa facciamo? Giochiamo un po'! Che bella questa stanza! C'è il tamburello! E come si diverte! Pandino lui adora la musica! Grazie! Tanti baci anche a te piccolo pandino! Come tenero! Come dolce! E adesso prendiamo questa palla! E la facciamo lanciare! E la lanciamo di nuovo! E... Oh! Ops! Scusate! Non è successo niente! Nessun problema! E adesso prendiamo questa bella scatola rossa! E che cosa escono? Tanti pescioli! Ah no! Sono farfalle! Tante farfalle colorate! E questo che cos'è? Una pistola che spara le bolle! Tac! Provate a scoppiare le bolle! E tac! Come sono carine! Le bolle mi piacciono tantissimo! Perché riflettono tutti i colori della luce! Ah! Le adoro le bolle! Grazie pandino che mi mandi le bolle! E adesso io te le scoppio! Tac! 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 E anche le ultime bolle se ne sono andate! Oh! Ma pandino sto piangendo! Che cosa hai fatto? Hai il pannolino sporco? Non ti preoccupare! Adesso te lo cambiamo! Eh sì! È proprio sporco! Che cosa hai fatto pandino? Mmh! Buttiamo via il pannolino sporco! E con una bella salvietta umida ti puliamo! No! Non piangere! Ecco! Bravo! Bravo! Ti sei tranquillizzato! Cambiamo il pannolino e mettiamone subito uno pulito! E lo chiudiamo! Prima la linguetta e poi l'altra linguetta! Ecco qua! Sei contento adesso? Anche a te tanti baci tesoro! Bravissimo! Oh! Tutto bello pulito e profumato! Ho detto profumato! Si fa in tempo a cambiare il pannolino che subito lo risporca! Non piangere! Non piangere! Adesso te lo cambiamo subito! Ecco qua! Buttiamo un altro pannolino sporco! Prendiamo una bella salviettina e ti puliamo tutto il popò! Ok? Sei tranquillo adesso? E ti mettiamo subito un pannolino pulito! Oh! Non piangere! Dai! E si risolve tutto! Tutto risolto! Ecco qua! Di nuovo bello sorridente come piace a me! Bravo piccolo! Bravo! Adesso forse è il momento di fare la nanna! Però è! Oh! Com'è carina questa stanza! Con le sue tendine con le stelle e c'è il lettino! Ma che hai! Un po' freddo! Ti copriamo subito! E adesso ti culliamo anche un po'! Eh sì! Muoviamo la culla a destra e a sinistra! Così ti rilassi e potrai dormire e fare tanti bei sogni! Ecco ti stai addormentando! Piano piano il nostro piccolo cucciolo di panda si addormenta e noi continuiamo a cullarlo! E possiamo raccontargli una bella favola! E ti gira la testa? Mmm! Allora forse dobbiamo smettere di muovere tanto la culla velocemente! Ed ecco che si è addormentato il nostro pandino! Tanti tanti sogni d'oro! A Pandino e a voi bambini! Fate tanta nanna e tanti bellissimi sogni! Buonanotte!